buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi rispondo ad un signore il quale mi chiede come si usa e se l'ansia che lui sente dalla mattina alla sera può essere eliminata completamente con un audio mp3 dcs dal titolo no panico bene se tu ti scarichi gli ho risposto quest'audio dcs no panico senza dare conto a nessuno senza dire fatti due in giro senza spendere soldi a go go o andare in palestra tu elimini l'ansia al 101 per cento se segue l'istruzione alla lettera a prova di nonno a prova di pigro a prova di idiota facilissimi e mi ha chiesto ancora vabbè ma in che consiste sono parole suggestioni ad hoc ad arte aggiungo perché tutti sanno parlare ma non tutti sono cicerone non tutti sono esperti professionisti aggiungo artisti perché l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola perché io ho iniziato ragazzi da autodidatta ho fatto mille corsi prima di approcciare e sposarmi con il metodo dcs d'ipnosi vera professionale della dottoressa rina brunini che poi è diventato il mio metodo del professor dottor miguel angel garai di los angeles baby hills per cui ti posso dire dall'ala z i pro e contro dell'ipnosi conformista e commerciale che comunque buona nessuno dice il contrario ma che ha dei limiti come liplosi paura liplosi fuffa liplosi da spettacolo non ha nulla a che vedere con il mio metodo metodo dcs del dottor claudio sanacino unico al mondo e me ne vanto perché è unico al mondo perché tu lo puoi utilizzare gli audi mp3 dcs ma anche le mie parole nelle mie sedute che al momento di pronosi online che al momento sono sospese in tutto il mondo per problemi di tempo ed impegni anche con chi non vuole essere aiutato ok e in che consiste l'audio mp3 torniamo sul seminato su quest'audio no panico che ti elimina tutte le paure le ansie di questa terra beh consiste in parole parole ad hoc ad arte perché l'ipnosi prima di essere scienza perché riconosciuta dall'associazione mondiale l'associazione medica mondiale nel 1958 e dalla chiesa con papa più nonno il 1847 e prima di tutto arte con la maiuscola arte all'alfabeto punto quando eravamo ragazzi facevamo così arte oppure altri fanno così arte ok quindi non è vero che anche tu che sei nel mondo dell'ipnosi e pensi che le parole parole siano uguale per tutti perché altrimenti chiediti perché non tutti affrontano tanti casi impossibili come ictus come con mio padre o la dottoressa prunini online su skype nel 2008 oppure epilessia autismo morbo di parkinson alzheimer dolori cronici perché non tutti li affrontano perché non sanno cosa dire anche il sottoscritto pur essendo autodidatti ipnotista autodidatta di lungo corso prima di incontrare la dottoressa rina brunini di los angeles beverly hills aveva cercato avevo cercato di ipnotizzare mio padre affetto da ictus fulminante colpito per metà del suo corpo ero riuscito a metterlo in trance usciva naso dal acqua dal naso come se tu avessi lasciato un rubinetto aperto ebbi un paura e mi fermai ma quando la dottoressa rina brunini avendo mandato l'email a mezzo mondo anche a medici che usavano l'ipnosi italiani francesi inglesi a tedeschi americani e tutti rispondevano no 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 come le pecorelle il greggio non c'è nulla da fare con l'ipnosi per l'ictus e la medicina tradizionale ha soltanto l'anticoagulante per chi ne capisce di paralisi di ictus non ha nulla di nulla di nulla bene l'unica che mi rispose per email fu la dottoressa rina brunini di los angeles che io ringrazio per l'eternità e da lì mio padre in mezz'ora come un peso morto con piaghe di decubito in tutto il corpo da un anno e mezzo circa due anni nel letto mio padre allo schiocco delle dita online nel 2008 della dottoressa rina brunini c'era mio fratello alessandro accanto a me cresce rocco adesso alza del cammino e mio padre si alzò e rannicchiato andò nella cucina cose incredibili mai viste eppure mio padre non ascoltava non sentiva non partecipava non capiva non usava le cuffie bla 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 tutto di più perché naturalmente il medico di cese cerca di consigliare per non utilizzare gli auricolari o le cuffie per i motivi che poi spiegherò più avanti rispetto all'ipnosi conformista commerciale che spinge sul discorso auricolari e cuffie quindi per non portarla le lunghe se tu scarichi l'MP3 audio di CS sentirai soltanto parole comprensibili ad hoc trasparenti naturali senza effetti collaterali come se vedessi sentissi la tv accesa la radio accesa però con una grande differenza che tu consciamente non capisci non afferi neanche tu che sei nel mondo dell'ipnosi l'incastro il significato potente di queste parole naturali senza effetti collaterali che non ti manipolano che non ti fanno nulla di nulla ma che ti cancellano guidano il tuo subcosciente il tuo pilota automatico ad eliminare l'ansia che ti attanaglia che non ti fa respirare che ti fa avere il peso al petto come succedeva a me tanti anni perché io prima di un guru sono un mentore come è successo a mia madre cardiopatica gli è sparito tutto come è successo a centinaia e centinaia di persone nel mondo e non lo dico tanto per perché qualcuno dice sì ma tu vendi fai no perché i miei diritti d'autore sono stati ceduti all'associazione ipnologi associati ad altre società in tutto il mondo per cui a me del vendere grazie a dio non ho bisogno perché se tu legge la mia biografia sono un libro imprenditori con imprenditori con diverse lauree e sto bene per le prossime 37 vite grazie a dio partito da studente lavoratore senza una lira in tasca in quel di modena vicino a milano e mi sono realizzato con il potere della mia mente con l'ipnosi vera e professionale perché nel 2008 non si è capito nulla se tu stavi accanto su questa terra non nasce in quel periodo ok per cui non credere a nessuna parola scaricati l'audio no panico se vuoi eliminare per te il tuo caro l'ansia che ti attanaglia perché basta premere play seguire la lettera le istruzioni e tu e mi aspetto poi da te una bella video testimonianza anche scritta conservando l'anonimato che convincerà altra gente ad approfittare di questo potente mezzo ok fammi tutte le domande del caso vista la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cerce il dottor claudio saracino cliccando sul rettangolino iscriviti e sulla campanella per le novità e fai share condividi con amici parenti perché può essere quella molla che gli può cambiare veramente la vita ragazzi a me alla fin fine non mi interessa la mia missione è sdoganare il mio metodo di cs che ha cambiato la vita a me e a tantissime persone io dal 2008 mi ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato e tu non te ne accorgi tu direi che sei fuso no non sono fuso e le energie triplicano cammini sulle acque fai tutto di più felice contento migliorano i rapporti di coppia con i figli con la famiglia non ti incazzi facilmente non perdi la pazienza facilmente quando dimisuri la pressione del sangue le gomme tutto funziona perfettamente bene sei più creativo sei più lucido hai più salute più benessere e attiri a te tutto il bene di questa terra anche materiale non è un modo di dire è un modo di essere quindi utilizzo questo grande metodo metodo di cs che ha le sue radici ripeto ancora una volta lo seggio les baby hills in due grandi dell'ipnosi clinica dottoressa rina brunini e professor dottor michelangeli garai miei mentori miei soci miei amici per l'eternità ok quindi visita e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio seracino alla prossima un bacio un abbraccio grazie grazie grazie